buongiorno amici di begolino tv da babbo natale come va begolino 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 a tutti scusate scusate no ma come ti fermi vieni 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 qui un attimo vieni vicino ecco a tutte le cose ma si ignorante come un tocco scusa perché ho anche il sottofondo musicale cosa la musica del buddha si ah bella bella sai che è a casa mia ho messo anche la posso far vedere scusate vado a prendere il telefono no 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 smettila che miseria non ne posto più di babbo natale allora begolino tv scusate intanto allora si 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 vai pure che intanto noi consultiamo i nostri smartphone giusto begolino tv un attimo si 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 facciamo una cosa ignorante è la diretta più ignorante della storia e così ecco scusate no no ah giusto hai i nostri edicolanti faccio vedere i nostri fantastici edicolanti di santa viola si ecco c'è come si chiama lui che non mi ricordo patrizio patrizio rita ma non me ne frega niente allora rita con begolino il begolino di peluche che diventerà l'oggetto del desiderio dei bambini ma anche degli adulti guardate il belgolino 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 allora ce l'hai fatta trovare la foto oppure no non lo trovo ah si eccola qua eccola qua un attimo ma è piccola però la mia è piccola beh è tutto così ha fatto il buddha insieme a bombarle quando uno è completamente fuori è un'immagine di pace si manca però il cappellino di babbo natale sulla testa del buddha non ce l'ho eh lo devi mettere lo devi mettere scusa questo è babbo natale questo no ok stavolta è venuto a trovarsi il nostro ospite in natale con i tuoi l'appuntamento paolo paolo che salutiamo paolo fra l'altro è libero se c'è qualche santa sniakera che vuole insomma quarantenne single bel ragazzo sportivo si ha una casa indipendente paga l'affitto sta facendo il trasloco in questo momento aspettate che finisca il trasloco se no gli dovete dare anche una mano e poi dopo magari però tiratene d'orecchie si non ha portato niente non ha portato niente questo non va bene non è un bel esempio è una cosa veramente durissima per gli ascoltatori che vengono a trovarci in natale con i tuoi dovete portare quelle cose da mangiare adesso lui ha detto ma sto facendo trasloco ve li porterò nei prossimi giorni solite scuse alle quali non crediamo stamattina abbiamo fatto anche una lennissima sfida una challenge hai vinto last christmas la challenge era laura pausini con una delle canzoni nuove dell'album di natale versus gli uem hanno vinto gli uem quindi abbiamo messo last christmas e poi abbiamo avuto il solito momento negativo del venerdì con la canzone dei cantanti da parcheggio perché quelle ormai vedrete il video integrale su facebook di radio bruno ma non ve lo consigliamo a meno che non abbiate dei problemi di transito intestinale per quelli che vogliono partecipare una grande manifestazione ricordiamo domenica e saremo in quel di campagnolo emilia che che nel massachusetts nel lontario nel lontano 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 l'emilia in lontario e il mega cicciolo d'oro si dalle 10 del mattino ci sarà che venite a tenere la salsiccia in mano non le nostre ma questa salsiccia consigliato per le donne ma no in generale insomma ecco così come forza fortuna poi dopo al pomeriggio faremo altre cose quindi campagnolo emilia con la strana coppia il cicciolo d'oro e poi chiudiamo con la con la cartolina degli auguri ufficiali di radio bruno attenzione perché si sono rovinati nella direzione di radio bruno ma lo sai capo che hanno fatto le cartoline sono da pagare attenzione guardate che meraviglia questa è la cartolina di auguri di radio bruno ovviamente verrà spedita a tante persone a tanti clienti a tanti ascoltatori il gioco è che voi le dovete rimandare senza scriverci sopra sì perché come vedete non c'è l'anno quindi si può usare anche l'anno prossimo ecco mi raccomando la ricevete la guardate magari potete fare anche una fotografia e poi dopo se la rigate ok abbiamo ecco set mi recuperi bambino에는oneü는데요 e per parte indiria di scusa e la solitudine dare un scappellotto bambino a tagliate così troppo mail metterò così ecco qua con per risparire però genitare lì perché non ti si deve vedere ecco file risata vai Ho 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 ho!